Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano attraverso la protezione civile sta testando ET Alert, quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Termina così il nostro momento di informazione.